Angela 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 Il gruppo del cliente, il gruppo di che vengare con il collo La relazione è il collo che mi piuaro non mi piuaro Vedi prima cosa che tu sanno Di dove mi ne rimasci Nel avevo, il mio fruoso Dice ora di non ti, non mi piuaro Vedi prima cosa Grazie a tutti Il nostro corso il nostro corso Bile man chosur sogn mai ebsen Lekin hala assus le ne senn Bile man chosur on son emaz Bu oz emaz, yoki kerekmaz Sansizlik dardi Lekin albab tu muta man Man gollari ngos o yaman Gözlerin dà getom Bile man chosur sogn mai ebsen Lekin bir kunaf sus le ne senn Bile man chosur on son emaz Bu oz emaz Sansizlik dardi Lekin albab tu muta man Anabakka yettim digende Umer yolda shumnu toptim digende Akhir nokta koydim Uzge bilen Anabakka yettim digende Umer yolda shumnu toptim digende Akhir on son emaz Neske bilen korash Neske bilen Ara na nya Neske bilen Lekin albaba Grazie a tutti